Le problematiche a cui vanno incontro coloro che ogni estate decidono di recarsi in vacanza al mare sono molteplici, tra i temi ridondanti le tariffe per le discese in spiaggia, ritenute spesso troppo dispendiuse. Ma per una volta a fare notizia, sarà una decisione che influirà positivamente sulla scelta di turisti e residenti di servirsi delle nostre spiagge per passare il proprio tempo libero. Il Consiglio regionale ha approvato la legge Campania Zero, proposta da PD, PDL e Gruppo Caldoro Presidente. La misura DOC prevede che i bambini a di sotto dei 12 anni non paghino l'ingresso ai lidi privati. La legge contenuta in un ammendamento presentato dal capogruppo del PDL, Fulvio Vantusciello, prevede come sanzione, in caso di mancato rispetto della norma, la fine della concessione per gli stabilimenti balneari. A subire le eventuali conseguenze della revoca dell'autorizzazione saranno dunque sia dirigenti dell'ente, sottoposti a un calo d'immagine, sia i privati che andranno incontro a una considerevole perdita economica. Pertanto la legge 10 del 2012, approvata all'unanimità dall'Assemblea nel maggio scorso, è considerata allo stesso modo da governatore della campagna Stefano Caldoro, dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano e dal capogruppo del PDL, Fulvio Vantusciello, un modo per aiutare soprattutto le famiglie più numerose. Si sono già verificati purtroppo casi di mancato adempimento alla legge, tra la costiera sorrentina, nelle isole del Golfo, nel ritolare Domizio Flegreio, nonché in Cilento, mentre altri si sono ben organizzati, distribuendo braccialetti per i bambini, in modo da gestire l'ingresso gratuito.